La Caritas di Tegiano Policastro continua con i suoi operatori e volontari nel sostenere l'accoglienza dei richiedenti asilo. In occasione del secondo sbarco al porto di Salerno lo scorso 19 luglio, che ha visto arrivare ben 2.186 persone, ancora una volta ha fornito il proprio supporto, non solo aprendo le porte a ben 100 migranti, ma anche portando presso il molo dove ha attraccato la nave militare Etna 3.500 paia di ciabatte, per evitare che chi scendesse a piedi nudi dovesse essere costretto a camminare sull'asfalto rovente, una circostanza presa grazie all'esperienza già vissuta durante il primo sbarco salernitano del primo luglio. Ad oggi sono oltre 400 i migranti presenti nelle strutture di accoglienza distribuite sul territorio del Vallo di Diano, del Cilento, del Golfo di Policastro e della Piana del Sele. Si tratta di persone provenienti dalla Nigeria, dal Ghana, dal Senegal, dal Mali, dalla Guinea, dalla Costa d'Avorio, dal Gambia, dal Togo, dal Pakistan, dalla Siria, dall'Eritrea e dalla Somalia. Dei circa 100 migranti accolti con l'ultimo sbarco a sud di Salerno, 26 sono stati inviati a morigerati, 22 adulti tra cui una donna incinta e 6 bambini. Altri invece si trovano nei centri di Sicignano, Palinuro, Roscigno, Padula, dove si sono aggiunti ai nuclei preesistenti. Nessuno fino ad ora ha lasciato prematuramente le strutture d'accoglienza a sud di Salerno per andare a ricongiungersi con i propri familiari in altri paesi, segno che qui vengono trattati bene. L'accoglienza, ha detto Don Vincenzo Federico, direttore della Caritas di Tegiano Policastro, non è solo dare vitto e alloggio, significa dare la possibilità di imparare la lingua italiana, fornire assistenza legale e sanitaria, significa soprattutto accompagnare queste persone dal punto di vista umano, in questo particolare momento della loro vita. E il Salernitano sta facendo la sua parte, più è meglio del resto della campagna. Non si sanno ancora le date, ma potrebbero esserci a breve nuovi arrivi a Salerno e il territorio è pronto ad accoglierli. Lo dimostra anche il fatto che il bando della Prefettura per il reclutamento e la formazione di nuovi centri di accoglienza, andato deserto la prima volta per mancanza di pubblicità, ora che è stato ripubblicato con scadenza il prossimo 31 luglio, ha già visto nuove adesioni da parte dei comuni, anche se la Consilina ad esempio ha avviato la ricognizione sul proprio territorio per individuare strutture e possibilità di accoglienza dei migranti. D'altra parte risuonano le parole del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, i frutti amari e le tristi conseguenze sulla sorte di intere nazioni toccano anche noi, ha detto, non possiamo esimerci dal sentirci interpellati, impariamo a guardare negli occhi quelli che sbarcano sulla nostra terra, non sono solo numeri.